Se ti fermi, ti soffermi, guarda che è bruttissimo, cioè guarda che noi, non solo noi donne, le critiche, i commenti, gli insulti che si becca un artista, secondo me le persone che non fanno questo mestiere dicono vabbè ma loro hanno una vita stupenda, hanno i soldi, fanno quello che vogliono, devono solo cantare, invece questo lato in realtà dell'insulto, della critica, della gente che proprio ti vuole scalfire, è veramente pesante. Basement Bella raga bentornati al Basement, sta per iniziare una nuova puntata, volevo salutarvi, dirvi che sarà una puntata fighissima, soprattutto grazie a Rose Villain, l'avete visto nel titolo, Rose ha appena riempito il Basement di un'energia incredibile, sono molto contento di questa chiacchierata ovviamente perché ci tenevo molto, perché la sua storia secondo me è pazzesca, perché è una storia che parte dall'Italia, va negli Stati Uniti, ritorna in Italia, e recentemente insomma è anche davanti agli occhi e alle orecchie più che altro di tutti, grazie a tutte le esperienze che sta facendo, spacca davvero, era totalmente da Basement ed è stata una chiacchierata volata, volata davvero, adesso credo avremmo fatto decisamente più di un'ora, non me ne sono accorto bene neanche io, passando tra mille argomenti e mille cose che secondo me troverete molto interessanti e alcune anche molto emozionanti, sono venute fuori delle cose inedite e quindi io la ringrazio già per la generosità con la quale si è anche raccontata, secondo me scoprirete tante cose che magari non sapevate di un personaggio che prima di tutto è una persona e che ha raccontato tanto di sé e che siamo pronti ad ascoltare insieme, quindi passate dal Basement anche voi Basement Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal Basement, bentornati, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non lo avete fatto e vi va iscrivetevi a questo canale per non perdervi nessuna delle chiacchierate, degli incontri, degli amici che passano a trovarci se invece ci state ascoltando o guardando su qualsiasi altra piattaforma, grandi, continuate a farlo perché è una cosa che ci fa molto piacere, che fa accadere cose molto belle come quella che è accaduta oggi, sta accadendo anzi in questo preciso istante dal Basement è passata, Ros Villain Buongiorno 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 Ros Villain Ros Villain Oh ecco brava, sfatiamo subito, era una delle varie domande perché è Villain come il Villain come i cattivi, cioè arriva da lì sostanzialmente Però in Italia mi chiamano in tutti i modi E' vero Villain è francese E invece è proprio Villain come... che poi sembra, se tu lo dici veloce sembra tutta una roba attaccata Lo svillain Ma sai che una volta ero ad una cena e c'era un tavolo di fianco dove c'era dei boomer Ah, dei boomer, boomerone de boomeroni Dicono ma aspetta, lei, dobbiamo chiedere una foto, lei è... ma aspetta, chi è, chi è, chi è... e dicono, è sville È sville Sville È sville Quindi mi hanno detto, sville, possiamo fare una foto? E sville mi è rimasto nel cuore Potresti pensare a un nickname per progetti b-side I miei superfan mi chiamano sville Davvero? Ti dico solo il passaggio successivo è asbulla Che è qua con noi e ci guarda Asbulla e sville, è un fit proprio Potrebbe non essere male Intanto grazie mille per essere qui Grazie a te, sono felice Mi è affascinato e nella mia idea c'era La prossima volta che vado a New York facciamo una puntata in trasferta La facciamo da lì, da qualche parte La faremo comunque 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 Ma perché tu adesso tendenzialmente stai qua? Dove stai fisicamente? Allora io sono stata quattordici anni a New York Sì Ho fatto anche due anni LA prima di New York Però adesso chiaramente la musica mi ha voluto proprio concentrarmi bene sul mercato italiano Sui miei due dischi adesso Quindi sarebbe stato stupido stare fissa lì anche col tour Poi c'è stato Sanremo Quindi adesso ho preso una pausa dall'America Ok, anche per mangiare un po' meglio In realtà io mangio da Dio lì Davvero? Io sono vegana Quindi lì c'è veramente il paradiso dei vegani C'è tutto Sì Tutto quello che puoi desiderare vegano c'è Diciamo non economicissimo No Perché in generale mangiare bene lì costa qualsiasi Cioè ti costa un rene praticamente Ma sai che però viaggiando tanto avanti e dietro ho visto che Milano è È Porco giù Cioè non è anche quella Sta prendendo quella strada lì Non sta prendendo tutto il buono Sta prendendo i lati un pochino più negativi di quelle zone Tu stai bene con me? Tutto a posto? Io bene dai sì Sono un frullatore Cioè non mi sono ancora del tutto ripresa Sento che se non vado in vacanza tra poco Potrebbe essere Le pile proprio sono low Potrebbe essere problematico Però insomma Cioè il festival di Sanremo Nuova scena che sta andando molto forte All'altro complimenti Sto guardando Adesso non l'ho ancora finito Sto vedendo un po' di Molto carino Di puntate Com'è stata quell'esperienza Sei bellissimo Ma guarda io non sapevo bene cosa aspettarmi Non conoscevo bene fibra Conoscevo poco Joliet Ma a parte che c'è stata un'intesa Secondo me in questi talent O c'è grande intesa tra i giudici O comunque non funziona Invece tra di noi ci siamo tipo innamorati C'è stato un trio Quindi ci siamo tanto sostenuti Ci siamo tanto consigliati Anche su come approcciare a dei giovani Talentuosi Incazzosi Perché tutti poi avevano la fame Il bello del rap è proprio questo Secondo me che c'è questo Componente sociale Di rivalsa E quindi Non sapevamo Nessuno di tre Sapeva bene cosa E invece è stato tutto Così naturale Così Così bello vedere Dei ragazzi Amare la musica E mettersi in gioco Perché poi è una cosa veramente Coraggiosa da fare Andare Sì a me ha scioccato molto Vedere Quando voi soprattutto Appunto le prime Le prime puntate Che magari vi si presentavano Gli davanti E dai ok Facci vedere E quindi così Mezzo alla strada Noi sentivamo la base Non so se loro sentivano la base Una cassa Però non era certo mixato Come era in tv Quindi devi avere proprio Sì Il rap inizia così Inizia dalla strada Inizia dai freestyle Quindi in realtà Le battle Sono senza mic Quindi è quello Però comunque Ci vuol coraggio Adesso nel 2024 Non sai Ma poi è fatto molto bene Nel senso che poi Tendenzialmente Questo tipo di prodotto Quando lo porti in televisione O sulle piattaforme Viene sempre una bumerata Cioè viene sempre una Una parodia Un po' una cosa È invece è molto È molto real Sì ci tenevano proprio Ma tu sapevi che sarebbe stato così? No Anche io ho appena visto Cioè allora la produzione Sembrava molto figa Ti fidavi diciamo Dici Netflix Si mette a fare sta roba Non sarà una Ma che merda può essere Poi avevo visto Quello americano Quello francese Che comunque sono fatti Prodotti da paura In Italia adesso comunque Il rap nel mirino Cioè l'hip hop Sta anche all'estero Comunque l'Italia È vista super bene Quindi ho detto Insomma con questa occasione Faranno una bomba Però quando ho visto Soprattutto l'editing Il montaggio Ho proprio detto Che bomba Mi piace E ti ricordi quando Te l'hanno proposto? Sì Me l'hanno proposto Mi hanno detto Non avevano proprio detto Rido Man Flow Perché L'hanno tenuto un po' segreta Questa roba di Netflix Stava cercando Io ho fatto un'audizione Ah cioè proprio Sì Volevano vedere Che appunto Anche quando avevi mai fatto Esperienze di questo genere No E quindi Ed è arrivato un rap Un rapper Che ha rappato davanti a me Io ho dovuto Giudicarlo Sì no è stato Che poi in realtà Ho A parte che io sono cresciuta Con il rap Il mio genere Chiaramente È ibrido Tra il rap L'urban Il pop Io a me piace mischiare Un po' tutti i generi Perché io sono Ho studiato tanto musica Quindi ho tante influenze Magari uno non mi vede proprio Come rapper Anche se Le prime canzoni che ho sempre scritto Ero io che facevo Riff di chitarra Magari rock Punk Perché io ho iniziato un po' Dal punk Però rappavo sempre Anche se io sono una cantante Mi veniva sempre da scrivere tutto in metrica Quindi Perché io ascoltavo tanto Biggie Tutta la scena anche 2000 50 Ok Ma anche The Game Eminem Quindi in realtà Oltavo tantissimo con l'influenza lì Mischiata un po' Il rock e il pop E quindi non sapevo approcciandomi ad un Se io avessi avuto le nozioni di poter giudicare Qualcun altro Qualcun altro Invece ce le ho Perché io mi intendo di tecnica di flow Sono brava Reppare Molto meglio di tanti maschietti secondo me Questo sta venendo fuori poi Perché poi effettivamente sta facendo la La differenza nel tuo percorso E quel ragazzo lì l'avevi promosso bocciato 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 Non saprei mai farlo perché sarei troppo buona direi Vabbè dai Mi prenderebbe male Ma sai che è una cosa distinta Cioè poi secondo me quando sei artista Sì E hai fatto un po' la gavetta E hai sofferto Quando vedi un po' di pigrizia Uno che sbaglia Cioè Tu non sbagli Perché se vuoi arrivare Sei preparatissimo secondo me Perché lo vuoi troppo no Io Anche se magari uno ha meno talento Ma io vedo negli occhi che c'ha quella roba che deve E non sbaglia niente Magari però Rap a me fa il flow tutto uguale Per me passa lui sempre Ok Io dico sempre che Il talento No la passione batte il talento sempre Sì Questa è una È vero E tra l'altro è una frase Non so se l'hai mai visto il film anche da cui è tratta Sì sì è vero Esatto Che è molto bello Ed è una grande Ed è una grande verità Sì sì Quindi vabbè insomma questa esperienza sta andando avanti Perché poi insomma tutti la possono La possono La possono vedere E Sanremo com'è andata? Sanremo è andata bene È stato veramente Quando si dice che è un turbine di emozioni e un frullatore Lo è veramente Cioè sei strapazzato per 9-10 giorni che poi in realtà sono 2-3 mesi perché io poi Volevo arrivare molto preparata quindi ho fatto tanta preparazione vocale Il brano lo volevo L'ho sviscerato da fuori a dentro Volevo proprio arrivare sul palco e non avere Perché poi la mia canzone è difficile da cantare Ha due mondi Ha questa parte un pochino più melodica Iper cantata Ma con anche le note sono abbastanza complesse Cioè sono dei salti di note Cioè semitone È abbastanza complesso Anche per una cantante brava E poi c'è tutta questa parte più ritmica dove Quindi è un pezzo complesso secondo me E volevo arrivare con sì magari la caga del palco ma non la paura di non saper sbagliare Cioè tu arrivi con la sicurezza per quanto riguarda la performance e poi comunque un po' di emozione Che non ho avuto Non ne hai avuto Attenzione Questa è stranissima Guarda Io ho fatto mille live e in quelli più grossi e quelli più importanti sempre un pochettino di cagetta primavera a tutti E tutti mi hanno detto guarda che Sanremo sarà il peggiore Per forza La peggiore tutti E effettivamente ho visto anche l'anno scorso poi Cioè l'anno prima ero andata come ospite da Rosa Chemical nella serata delle cover E ho visto che effettivamente erano tutti molto tesi ma non solo gli artisti ma anche proprio gli enturali Cioè ho visto proprio Tutto c'è tensione ma infatti sono di solito più tesi quelli intorno Sì Che ti trasmettono d'ansio e tensione E quindi mi sono trovata lì dicendo adesso chissà cosa succederà stasera no Però non arrivava mai questo quest'ansia cioè ero più gasata no volevo proprio andare e mangiarmi Cioè quel mio momento no E infatti ero lì dietro le quincy vabbè adesso quando mi chiameranno me la farò su voto Mai non mi sono mai fatto infatti ringrazio ancora adesso il mio corpo per una settimana di avermi Per non averti tradito Esatto Mi ha graziato mi ha detto senti goditi questo bel momento Qual è stato il momento più bello secondo te del tuo della tua esperienza? Guarda la prima sera quando ho cantato il brano verso la fine perché poi all'inizio ero molto concentrata Perché poi la prima performance è sempre un po' la peggiore per tutti perché non sai il micro Però la prima sera verso la fine della prima performance ho realizzato che ci fosse mio papà in sala con mio fratello E ho proprio detto mi sono mi è venuto un po' di ma poi ti piangono mentre canti alla fine Però mi è venuto proprio verso la fine il magone Ma mentre eri sul palco questo? Cioè ci stavi pensando Ho proprio pensato cavoli c'è il papà che mi sta guardando lì che spero di avergli dato una soddisfazione Per avergli la data Quindi ho detto dai almeno qualcosa ho combinato Che figo però bello Cioè che riesci anche a fare questo tipo di pensiero una volta che sei sul palco E ho sentito di cantare per lui cioè mi sembrava che ci fosse solo lui in sala Quanto è andato il tuo fratello? Mio fratello 25 Ok E lui è povero mio padre cioè uno vuol fare la cantata Stai facendo Mi sembra assurdo che faccio la cantata Hai fatto quella cosa che si chiama Sanremo che di solito certifica proprio anche al mondo adulto quello che stai facendo Una vuol fare l'artista e l'altro mio fratello ha la passione per i motori Anche se adesso ha una super start up sta facendo app Ed è un ragazzo veramente speciale lui però c'è questa roba dei motori va sempre in moto sempre su una ruota in pista Eh dai papà è tranquillo quando uscite di casa Tutti e due uno chissà dove vanno tutti e due Adesso siamo siamo sereni in qualche modo Beh però insomma è stata una bella esperienza ma tu ti aspettavi nel tuo percorso che saresti Cioè Sanremo era nei tuoi programmi Onestamente no No Perché appunto allora io a parte che Sanremo negli ultimi due tre anni è cambiato completamente Poi ho vissuto tanto all'estero quindi magari avevo meno il mito di Sanremo Cioè pensavo i VMAs i Grammy cioè ho sempre avuto un po' quella cioè capito no 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 E poi appunto Sanremo negli anni prima magari appunto era un pochino più Non c'era il rap non c'era la musica moderna c'era un pochino più cantautorale Totalmente Esatto Poi negli ultimi anni ho visto questa apertura ma anche in Italia in generale ho visto musicalmente un'apertura proprio alla ricerca del sound Secondo me l'urban ha tantissimo influito in questo cioè se guardi le classifiche solo rap tante cose sono sperimentali mentre prima mi sembrava che il pop italiano fosse un pochettino bloccato e quindi poi chiaramente negli ultimi due tre anni ho visto quanto Sanremo in realtà premiasse anche i talenti un po' diversi e davano opportunità veramente a tutti di qualsiasi genere quindi se ci arrivi è veramente una bella un bel gol Ah come è andata la proposta come è nata la cosa Avevo due brani Sì Io me l'ho detto vabbè senti proviamo siamo qua in Italia adesso saremo senti mandiamo sti brani Vediamo che succede Io ti favo tantissimo per l'altro brano Davvero? Sì Perché anche l'impatto a tutti era piaciuto più l'altro Sì 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 Però click boom è un martelletto eh un bastardo E poi infatti ho imparato infatti ero felice che fosse quella alla fine Lì hai scelto Amadeus Ho scelto Amadeus Ma scegli sempre Amadeus Ha raccontato anche qui che sceglie cioè che credo che poi questo l'ho tradotto io che il suo superpotere sia un po' a scegliere il brano giusto Sì sì È bravissimo è bravissimo è proprio è un grande direttore creativo lui Poi ti consiglia anche dove come portare il brano come chiudere il brano cioè proprio fa un lavoro veramente di direzione creativa veramente Pazzesco Sì infatti guarda quanto funziona bene Sì sì ma l'ha raccontato anche su altri tuoi colleghi no che magari volevano quell'altro brano Gli hai detto questo e poi quella roba lì ha effettivamente funzionato e anche tu sei stata soddisfatta Sì 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 assolutamente Però adesso c'è quell'altro Tu pensa c'hai ancora l'altro da tirar fuori adesso Amadeus era molto incerto perché la prima preferiva l'altro eh Poi mi hai detto però aspetta però aspetta aspetta Vabbè bello bello Vabbè figata anche avere questo confronto con qualcuno Sì è bellissimo Che ti dà questo tipo di feedback in qualche modo Assolutamente È tanta è tanta roba E poi insomma non hai mai avuto paura accettando di fare o comunque proponendo di fare il festival di Sanremo Perché comunque tu sei sempre stata Per questo ti dicevo anche l'anno scorso eccetera perché ho sempre visto che nella scena nuova o non è anche più troppo nuova Sei sempre stata molto rispettata insomma hai fatto insomma collaborazioni con grandi artisti con grandi personaggi da Salmo a Guè insomma eccetera Quindi avevi quel tipo di credibilità il fatto dell'andare a Sanremo e a un certo punto che tu venissi portata in quel contesto e che quindi a quel punto diventi popolare o comunque perché anche chi ti chiama come dicevamo prima Sville Sville Per chi ti dice sville eccetera è un qualcosa di cui avevi paura o invece era una roba che tu hai sempre messo in conto perché hai detto io voglio fare musica e voglio arrivare a più gente possibile Ma insomma chiunque fa musica vuole arrivare a più gente possibile Anche secondo me E io onestamente Cioè chi dice il contrario secondo me è perché non ci è riuscito però è un altro discorso Io penso io non ho io ho sempre sentito la mia musica molto mainstream in realtà cioè io non mi sono mai percepita così alternative come magari sono stata percepita in Italia perché io ho tanti anche i pezzi anche questo disco radio Gotham sono dei pezzi che su me sono veramente pop anche se sono appunto molto urban però appunto io ho sempre avuto la reference americana no? Quindi cioè guarda una Billie Eilish il suo il suo percepito è ultra pop nonostante la sua musica sia veramente alternative Anche perché poi cos'è il pop? Cioè se dovremmo andare a monte capire cos'è oggi pop quindi popolare che cosa vuol dire cioè paradossalmente questo genere è più pop di tanti altri adesso Esatto quindi io non mi sono mai sentita di dovermi snaturare perché per me io quello che faccio è ultra pop da sempre E sono insomma io la credibilità me la sono guadagnata dai miei colleghi perché sono molto istintiva sono molto autentica cioè non cerco mai di fare la cosa che piaccia a tu io faccio quello che piace a me fortunatamente piace a loro e piace piace ad altri Però Sanremo io non mi sono per niente snaturato cioè click boom sono proprio io cioè anche nel Radio Gotham io canto tanto poi ci sono tanti pezzi più reppati però qui ho semplicemente mischiato le due robe ho fatto chiaramente una cosa dove ecco è uno showcase per me Sanremo di quello che so fare Sì 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 perché oggi quel contesto ti permetteva di essere te stessa cioè nessuno ti ha chiesto di fare un brano che non rappresentasse te no quindi questo è molto figlio Ma anche per dire fragole che invece uno dice ah vabbè ha fatto la roba più estiva invece è un pezzo reggae torbido malizioso con Achille Lauro che è un ribelle un punk da sempre uno che comunque è uscito dalle righe tante volte cioè anche il match per me non era una cosa estiva classica era una cosa infatti Cioè cioè sono molto contenta anche di aver fatto fragole in alcuni casi esatto va ricapito tutto il contesto no in cui accadono accadono le cose e tra l'altro tutto questo ti ha portato leggevo qualche giorno fa aprirai il concerto dei Coldplay Porca Eva Quella è tantissima roba Infatti io poi sono ultra fan dei Coldplay Ok Non mi aspettavo cioè non so non me l'aspettavo ecco quello è stato abbastanza cioè mi hanno chiamato e mi hanno detto ma senti ma Ti andrebbe cosa fai a luglio E tra l'altro è tipo il giorno prima del mio compleanno quindi un gran regalo di compleanno Vabbè non male E' veramente un... oltre a proprio l'emozione di... a parte che li conosci perché io so tipo Mara sa te lei ha aperto per il Coldplay San Siro Quindi lei mi ha un po' raccontato mi ha detto che loro soprattutto Chris Martin ti vuole conoscere vuole sapere della tua musica Quindi cioè già l'idea di conoscerli e parlare con loro è un sogno Poi Roma, Stato Olimpico cioè veramente... cioè non vedo l'ora di vedere il concerto soprattutto perché sapere anche che... E di viverlo da lì nel senso che avrai dei posti particolarmente comodi Esatto Tra l'altro ti ho intravisto l'altra sera dico l'altra sera poi in base poi quando esce la puntata fatevi due conti Da Kanye al... 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 tanto discusso Lissimi in Party com'è andata? Ma allora io sono ultra fan di Kanye Lo so per questo mi interessava capire il tuo parere Ultra fan anche di Lady Tidoll Cioè il disco Voltures mi piace da morire Guarda mi piace tutto quello che fa Kanye Lui mi è stato tanto sulle palle Forse mi sta sulle palle Kanye perché è troppo divisivo... cioè è troppo... cerca troppo sempre di essere divisivo per far parlare di sé no? Però l'ha fatto secondo me in momenti anche politici che secondo me erano troppo delicati Non so ha fatto degli scivoloni troppo grossi Sì 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 Quindi io non perdono tanto Cioè lì non fai fatica a scindere il lato diciamo artistico da quello umano È sempre quello perché tanti artisti poi da sempre hanno fatto tante marachelle Noi però magari amiamo troppo la musica e anche non so in tutta la questione Michael Jackson Woody Allen Cioè sono tanti che hanno creato anche attorno a sé delle problematiche Sei giudiziari proprio Sì 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 Però poi cosa fai? Guardi e ascolti questi... guardi i film guardi cioè come fai veramente Io un pochettino sono influenzata adesso però poi quando sento la musica mi piace Il live certo che schiacci un tasto per pagare 200 euro il biglietto e... Però è stata una roba artistica non so come dire Lui tutto quello che fa Cioè anche perché proprio perché tu vivi... hai vissuto e vivi ancora negli Stati Uniti eccetera Spesso in Italia non siamo abituati a vedere cose di questo genere che accadono qui in qualche modo È una cosa... è comunque provocatorio, è cani Cioè non... ha fatto una caniata Sì ha fatto una caniata forse... Ha fatto una gran caniata Ha fatto una gran caniata Io però paradossalmente ho visto comunque... cioè nel senso credo che tutte le persone che abbiano partecipato Erano coscienti di cosa stavano andando a vedere Di quanto avevano pagato, di quello che avrebbero avuto indietro a queste esperienze Ho visto comunque tutti esaltati Erano tutti esaltati Poi se ti fermi e ci ragioni dici... cacchio sì effettivamente Io dall'altro lato del... cioè da artista che fa lo show ti dico a me vedere... bellissimo siamo con cani e siamo in un palazzetto e stiamo ascoltando il disco con lui quindi bello Però da artista io non ce la farei Diciamo Milano cazzo 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 Sì sì E ha avuto un botto di... su quelle cose un genere Però insomma è molto altalenante Qualcosina in più io l'avrei dato anche fare un solo ha fatto Runaway alla fine cioè è partita io speravo lì che ha detto adesso rientra e viene giù il forum resta così chissà che stai notando un po' adesso comunque siamo un pochino sulla mappa di questi personaggi come Italia nel senso che di solito per questi personaggi siamo sulla mappa per le vacanze cioè qua vengono tutti a fare le vacanze in Italia da Kanye a Michael Jordan però vengono poco a fare le figate qui ultimamente hai visto potrebbe essere che quindi magari ritorni ma comunque guarda che ci sono a parte i Mineskin che adesso comunque ha messo ben l'Italia sul mirì cioè musicalmente però anche il rap secondo me guarda anche Sfera che ha fatto con J Balvin ma tanti fit esteri stanno facendo un Bia ha fatto ma anche Guèf do ricro cioè ci sono tanti cominciamo a dare veramente dei segnali e poi noi streamiamo come nessun paese stream ma in termini in proporzione in proporzione cioè noi se esce un disco di non so Rondo cazzo nei top global comunque negli album di debutto c'è e siamo un paesino così cioè noi streamiamo come pazzi Sanremo i pezzi di Sanremo erano in top global mondo la playlist c'è stato un giorno che è stata la più ascoltata perché effettivamente è fortissima sì e perché non abbiamo forse da una parte tutte le cose che ci sono all'estero quindi ci concentriamo su quelle che ci sono quando escono si crea quell'hype lì e in qualche modo poi si va tutti a streamarlo spero che succeda anche col tuo album che credo adesso insomma che sia già uscito nel momento in cui facciamo questa quando esce questa chiacchierata quanto ci hai lavorato che aspettative hai guarda mentre il primo c'è Radio Gotham è stato un disco molto più sofferto ci ho messo non so sei mesi sette che poi in realtà erano tante canzoni che nel tempo hanno cominciato ad avere tutto lo stesso poi ombrello di tematiche tutte avevano un po' lo stesso sound c'era un po' una frustrazione c'era un po' io dico sempre l'avevo esplorato un po' le mie zone d'ombra infatti è tutto un po' scuro come disco non che questo sia Cristina D'Avena no no chiaro però questo è proprio il disco che è nato dal confronto quando è uscita la mia musica quando è uscito il disco Radio Gotham le persone come se mi avessero capito e io mi sono sentita di poter essere fragile di poter aprirmi senza che dalla io non mi fido sono una sempre stata un po' non molto non mi fidavo di nessuno sempre stata un po' spaventata che la gente potesse farmi soffrire invece ho visto che la gente si è connessa e diceva aspetta anch'io soffro anch'io sto così anch'io sono fragile amiamoci e questa cosa mi ha tipo fatto infatti Radio Sakura proprio la Sakura la fioritura dei fiori di ciliegio e quindi proprio mi sono sentita di fiorire nell'artista che volevo quindi molto più consapevole è un disco molto intimo molto crudo però anche più non so più esplosivo in tanti in tanti versi dove l'hai partorito a New York sono scappata un mesetto a New York e l'ho scritto letteralmente in un mese si è praticamente scritto da solo sto disco che io ho fatto dopo Radio Gotham ho fatto tutta la promo tutto il tour il festival le date ho fatto veramente un anno senza mai scrivere quindi avevo proprio cioè avevo la carica a pallettoni avevo proprio bisogno di una penna e un foglio e un attimo per scrivere ho scritto tutto tutto ma è stata la cosa più facile sai che si dice che il primo figlio c'è un travaglio infernale il secondo esce di pochissimo tempo ed è stato così Radio Sakura è proprio e adesso secondo me è la musica migliore che ho mai fatto ogni scarpone è bello a mamma sua però proprio mi rende troppo felice qual è quello che non vedi l'ora di far sentire di canzoni beh c'è un pezzo che si chiama brutti pensieri che è molto crudo ma almeno per me è un po' spiazzante perché poi affronta un po' la tematica poi della salute mentale così e magari anche anche da una ragazza magari è diverso sentire parlare di queste tematiche quel pezzo lì è abbastanza un pugno e su su questo tema il fatto di essere una donna una ragazza che fa questo genere che per anni è stato più maschile che altro adesso mi sembra che un po' di cose stiano cambiando c'è qualcuno che ti ha ispirato su questa strada ma allora se tu adesso guardi le donne secondo me in qualsiasi ambiente sono sempre state un po' penalizzate il gender gap is real c'è sempre stato vedo che chiaramente negli anni col progresso sta migliorando e anche la musica riflette quello che è il mondo quello che è la società quindi è lo stesso anche in questo campo siamo sicuramente meno perché ancora non è che siamo a livello degli uomini in classifica il rap poi è un genere abbastanza macista da sempre viene dalla strada che è un luogo più maschile che femminile però guarda l'america adesso in classica cardi megan nikki ma anche beyonce adesso fa tanto rap ariana rappa cioè è diventato proprio secondo me è una cosa però perché le donne si sentono più confident nei loro corpi si sentono di poter dire ci siamo più unite tra di noi cioè c'è più supporto mentre prima comunque le donne abbiamo tanto sentito sempre la competizione magari no adesso invece siamo cioè siamo amiche cioè non so come ci supportiamo l'un l'altra e questa cosa ci dà la confidence anche di di non aver paura di essere giudicate tra di noi tra colleghe quindi facciamo un po' il cazzo che ci pare e funziona perché si sente cioè tra sudiamo confidence non abbiamo paura di spogliarci se ne abbiamo voglia di parlare di sesso io ho un brano non in radio conta ma che è Yakuza che è proprio esplicito e io quando lo canto quando lo sento mi sento così a mio agio e così libera di poter parlare di tutto cioè secondo me lo stiamo vivendo tutte questo sta funzionando in qualche modo però ti è capitato di leggere qualcosa insomma commenti robe sul fatto che sei donna per fare questo genere sì ma guarda non c'è una volta che io o una mia collega ci sia scritto sotto ci sia scritto vabbè grazie lei sta col produce vabbè Elodie vabbè è stata con Marra Mara Satè è bella sorella di da su è sempre nell'ombra di un uomo questa cosa c'è sempre questo commento ma sai a me che cazzo me ne frega niente alla fine sono io che faccio i concerti i biglietti li comprono i dischi li vendo andate una fancula mi sembra abbastanza chiaro e funziona no però non è facile riuscire a avere questa tra virgolette cazzutaggine o comunque questa cosa dell'andare dritto lo sta soffredandosene un po' di tutte le perché se ti fermi ti soffermi guarda che è bruttissimo cioè guarda che noi cioè non sono noi donne le critiche i commenti gli insulti che si becca un artista secondo me le persone le persone che non fanno questo mestiere dicono vabbè ma loro hanno una vita stupenda vabbè hanno i soldi fanno quello che vogliono devono solo cantare invece questo lato in realtà dell'insulto della critica della gente che ti proprio ti vuole scalfire è veramente pesante cioè o ti detaccia cioè ti distacchi da questa cosa e provi a non guardare più commenti a non leggere più queste cose oppure a diciamo confrontare queste confrontare come si dice come dite voi in Italia come si dice confrontis confrontaris vabbè comunque sia comparare non lo so sì oppure andare a dirgli che cazzo vuoi ah ok ok rispondimi in qualche modo confrontarti perché veramente du ma anche tu magari riceverai sì devo dire che sta succedendo ultimamente non succedeva da cioè per anni non è successo però succede quando spacchi secondo me questa cosa e lo sto imparando grazie a a voi insomma gli ospiti che vengono personaggi che fanno cose molto cioè cose che indiscutibilmente stanno spaccando che sono belle che funzionano e dicono cavolo e dico se anche a loro cioè qualcuno ha da dire qualcosa vuol dire che c'è proprio un problema tutti hanno sempre da dire qualcosa tutti nessuno sopporta il successo cioè di nessuno pochi tutti sono un po' invidiosi magari di quello che pensano sia una vita felice ma chi non invidia una bella vita comunque che poi non è che quella dell'artista per forza anzi per me è una vita molto tormentata quella dell'artista in generale comunque è appunto un continuo dover scavare dire e sperare che gli altri non ti massacri butti nell'iperspazio la tua anima però è dura è dura insulti la critica o ti proprio veramente secondo me non ti ci puoi mettere questo è un discorso molto attuale che io sto pensando perché poi scatta quella cosa quando appunto sta andando veramente bene stai spaccando c'è quella la banalizzazione cioè vabbè ma che ci vuole vabbè ma che ci vuole ma allora se fa questo e allora tante volte ti verrebbe di andare a rispondere però tutte le volte poi in realtà ti rendi conto che ah fai il gioco della persona che ti sta insultando gratuitamente tendenzialmente poi a me capita ogni tanto vado a vedere dico ok chi è questa persona vado a vedere solitamente nel nickname ha una bestemmia e quindi già ti fa capire che c'è qualcosa che non va e come direbbe Gue che ha detto quando è venuto qui tendenzialmente sono sub umani quel tipo di persona poi invece le critiche ci mancherebbero no ma la critica costruttiva ma poi però lo vedi la capisci la differenza guarda ieri mi ha fatto rito mi ha scritto una tipa che poi magari sono tutti i profili poi un po' fake però mi ha scritto questa ragazza mi ha insultato sotto ho visto proprio aprendovi era proprio il primo post che mi insultava mi diceva mamma mia che banalità che schifo sta musica veramente orrige è una roba così e ho aperto un insulto ben pensato comunque lungo cioè articolato vado nel suo profilo e c'era scritto non so il nome poi sotto dona un sorriso che non sai mai non sai mai cosa sta passando incredibile questo è un cortocircuito però è vero dall'altra parte se non la devi vedere proprio come un sinonimo quando arrivi veramente a tutti e hai successo un po' sta succedendo questa cosa qui ma questa è una cosa avendo tu e vivendo tu con gli Stati Uniti la vedi una differenza tra questo modo di approcciare il successo degli altri ma anche negli Stati Uniti sono tostiti in Italia sono molto hardcore secondo me c'è un bel livello di frustrazione che secondo me guarda io un po' lo capisco perché effettivamente non è proprio facile vivere in Italia sì però io non lo capisco invece cioè capisco che non è facile però se è troppo come dire hai dei benefici troppo maggiori se sei positivo nel senso se io riesco a gioire del tuo successo o essere positivo o aiutarti eccetera nella mia vita ho comunque un riflesso positivo di questa cosa è tutto sarà che io credo di questa cosa fa l'atteggiamento fa la differenza e spesso invece negli Stati Uniti questa cosa l'ho trovata non ho quel paragone che hai tu magari sul discorso su proprio il pubblico magari che cosa scrive perché non vivendo la quotidianità però anche lavorativamente professionalmente tante volte vedo persone che comunque invece di mettere dei muri quando potrebbero rimetterli tranquillamente perché sono personalità che veramente contano qualcosa nel mondo invece tendono ad avere un atteggiamento propositivo di opportunità New York sì New York sicuramente sì però perché proprio il fulcro di persone che vengono da tutto il mondo si incontrano perché vogliono realizzare qualcosa di bello tendenzialmente la gente che sta a New York è questo vogliono diventare vogliono fare qualcosa della loro vita vogliono godersi la vita per poi appunto un posto ultra godereccio quindi insomma a New York c'è tanto quella roba del io ti faccio di apertura anche positiva sì di sicuro quello ti restituisce comunque qualcosa sempre quindi io ci credo molto a questa cosa nel mio cerco di farlo sempre ha un discorso di energie e tra l'altro tu secondo me è un'energia incredibile cioè spacchi proprio per l'energia che in qualche modo emani e arriva secondo me anche un po' da tutto il percorso che hai fatto cioè io ho visto un po' di cose e dico cacchio se hai la possibilità perché poi bisogna avere la possibilità il coraggio tante cose di fare un percorso tipo quello che hai fatto tu cioè per forza sei avanti cioè non poi devi avere il coraggio di affrontarlo di andare dall'altra parte del mondo di studiare lì perché come è andata a un certo punto della tua vita quanti anni avevi quando ti sei trasferita ma io in realtà da quando da quando credo ho visto Baby One More Time su MTV in flash ho detto ok io quello voglio essere io voglio diventare una pop star e ho visto che in Italia non c'era questa cosa quindi ho avuto da piccoli quindi avevo otto anni non era così ho avuto subito questa cosa ok devo andare in America devo fare questo devo andare in America l'America è quello no i lustrini i giovani che ballano che io poi ballavo quindi proprio vedevo proprio Mary Flesing volevo tutto volevo quello a tutti i costi quindi ho fatto tutto il liceo la scuola così sicura che finito il liceo perché poi mi hanno detto ti prego va bene fa il cazzo che vuoi però finisci il liceo poi loro sono stati super supporti mi hanno tanto creduto io li ho proprio convinti di questa io ho detto io farò la cantante cioè punto non ho mai avuto un piano B loro mi hanno detto ma no ma vuoi studiare no faccio la cantante devo studiare musica e poi vediamo farò questo però ve lo giuro e i miei mi hanno creduto mi hanno detto vabbè se sei così convinta prova ci vai prova ci vai e quindi sono fatto trovato questo conservatorio però quindi tu hai fatto le superiori a Milano tu sei nata a Milano cresciuta a Milano ed è dopo la quinta superiore che ti sei trasferita sì però sapevo già che sei nata negli Stati Uniti quindi ho studiato l'inglese io sono arrivata negli Stati Uniti che lo parlavo madrelingua l'inglese cioè proprio guardavo solo film in inglese perché volevo scrivere e poi scrivevo canzoni in inglese quindi era già il mio 17 ascoltavo pensa che io avevo tutti i dischi perché poi c'erano i cd i tempi come se avessi cent'anni però una decina no 15 anni fa avevo anche le cassette però vabbè l'era vintage l'era vintage ok ok avevo tutti i cd e io scaricavo mi ricordo che andavo in ufficio a mio papà stampavo tutti i testi di tutti gli album li traducevo tutti io a casa ancora ho tipo lyrics dalla A alla Z di tutti i dischi che avevo e studiavo tutti i testi delle canzoni questo è un grande insegnamento cioè il fatto di imparare attraverso poi la musica quindi se c'era una parola che io non capivo impazzivo a tradizionari perché poi non è che c'era beh Google forse c'era nel 1854 nel 1854 e quindi poi è stato molto nato subito già in quinta liceo ho cominciato a guardare che poi magari ero andata a vedere un paio di scuole una a New York e una a LA ero andata a vedere poi sono stata molto fortunata che mi hanno fatto uno sforzo per supportarmi chiaramente poi queste scuole qua e sono andata a LA in realtà mi sono innamorata della California ma non è proprio il mio posto sì perché con New York mi sembrava molto caotica l'avevo vista ma non ho detto è troppo un casino invece lei sai le paio poi avevo il mito un po' di Hollywood di quella le paio cioè mi sembrava la California la cosa più cioè avevo visto Ossì basta stavo per dirtelo io forse hai visto Ossì ho visto troppe Sì esatto troppo Sì invece lei sono stata due anni ho fatto questo si chiama conservatorio di musica moderna quindi cioè contemporanea dove io la mia specializzazione era canto però ho studiato tutti gli strumenti dovevi studiare c'era l'irix proprio l'esplorazione dei testi c'era c'erano tutti rock vocals quindi abbiamo fatto proprio c'è lo scrimo io ho imparato a fare mi sono innamorata del blues del jazz lo ska il rego proprio un approfondimento cioè le lezioni erano quelle come si chiamavano le materie c'era rock vocals c'era reggae reggae tunes improv improv è bellissimo sul blues c'era un tipo c'è un tipo afroamericano che suonava blues ma come cioè te lo giuro una roba così e tu devi andare sul palco davanti a sconosciuti perché poi era molto grande questa scuola e tu devi fare improv cantare improvvisare cioè ti metteva c'era danza cioè per me questo è più difficile del festival di sanremo perché lo fai io dico sempre anche nelle mie cose cioè che alla fine quando ti dicono ma cosa parlare a un microfono parlare a 20.000 persone no è molto più difficile quando all'inizio non ti conosce nessuno devi parlare o cantare davanti a degli sconosciuti che dicono vabbè adesso sono lì a giudicarti e tu eri lì dove improvvisare cantare cantando sì sì non era cioè proprio cantare sul blues quindi lui ti fa i 4 g le 4 noti e poi voto voto su questa cosa voto subito e lì è andata bene quindi questa esperienza anzi improv mi piaceva tantissimo però non ho capito era a Los Angeles o a New York questo era lei sì sì però quello che hai detto prima non era il mio posto e lei non era il mio posto ma lì cos'è tu stavi avevi un non so una parte di college no di college scusami dove dormivi dormitorio no c'era una casa avevo affittata una casa lì vicino e come era la tua giornata tipo mi svegliavo presto quindi avevi 20 anni 19 sì andavo a scuola stavo tutto il giorno a scuola poi tornavi lì cioè l'università lì soprattutto questi corsi qua non sono quattro anni perché sai tipo l'università italiana tu fai sei mesi poi hai sei mesi di preparazione esami invece lì hai tre mesi e hai due settimane per studiare per gli esami li dai subito e vai avanti cioè è tutto molto più concentrato quindi devo studiare i compiti diciamo per i giorni dopo preparare tanti pezzi poi devi scrivere canzoni ok domani dovete scrivere una canzone sulle scarpe ma è lì che hai iniziato con un gruppo a suonare avere una band sì erano tutti i musicisti a quel punto fai la band quindi abbiamo fatto The Villains The Villains nasce lì da lì che poi sì ed eravamo praticamente soprattutto il bassista il chitarrista erano veramente proprio sfigatini cioè sai proprio piccoletti poi teenager proprio con i baffi quelli della pubertà esatto gli occhialetti proprio e quindi volevo dare un nome alla band perché poi facciamo cover cazzute punk rock facciamo le hall 30 second to march senior violet zeppelin tutte queste cose qua quindi non potevamo quattro sfigati allora siamo chiamati The Villains proprio per per darvi un po' di tono esatto per recuperare dall'altra parte per esorcizzare esatto e tu lì eri già rosa o eri sì eri già rosa da quando ho due anni tutti mi chiamano rosa davvero c'è rosa si è subito trasformato rosa se mi scridano sì rosa rosa lì c'è già paura anche sì sì no ne ho sempre chiamato rosa anche mia nonna mi chiamava rosa pazzesco vabbè quindi rosa e lì scusami dove andavate a suonare nei locali sì mi prendevano ma lì lì tu puoi suonare c'è le jam eh lì non ti è capitato di fare degli incontri particolari in Los Angeles legati alla musica perché poi lì è veramente un po' comunque la terra è un po' un casino Los Angeles perché è grandissima quindi devi capire dove andare cosa fare io incontro vabbè celebrities le vedi ovunque però mi ha quasi investita in macchina ma che mi è arrivato tanto così Jake Gyllenhaal sì sì lui mi ha praticamente investita cioè ti investimi io infatti ho detto cioè prima faccio ma che cazzo fai mi giro poi la Jay faccio era lui volevo per tinta di essere svenuto è un grande è un grande Jake poi Donnie Dark come nei miei film preferiti lì si è fermato ho detto a tutta posta ti fa scusa scusa no no vabbè investimi pure scherzi e se n'è andato via però come esperienza sì sì ma poi a New York anche beh lì poi è un altro discorso cioè New York tipo io poi ho sempre abitato su 8th street di fronte agli Electric Lady Studios di Jimi Hendrix e lì ci vanno tu scendi che c'è Jay-Z Lady Gaga tutti che vanno e quindi lì vedi un sacco quindi se vai a buttare la spazzatura avresti tu un po' dici vabbè vado anche lì devi essere sul pezzo no ma scendi buttare la spazzatura c'è Shawn Mendes abbiamo incontrato Jack Antonoff proprio abbiamo chiacchierato ma tutti ma lì come è andato come è finito l'università sei tornata io ho finito quello io in realtà e lei appunto l'ho vissuta un po' malino perché e lei a me affascina tantissimo ma forse mi affascina perché ha qualcosa di oscuro forse questa cosa che c'è sempre il sole tipo il giorno della marmotta sembra capito la gente è un po' un po' diversa lì un po' dark c'è un lato un po' falso di lei che proprio non è nel mio vibe è tutto molto più chill ci sono tanti homeless tanti drogati cioè tanti drogati c'è tanto disagio adesso tra l'altro credo stia vivendo il periodo peggiore in assoluto da quel punto di vista anche San Francisco che è una città meravigliosa tra l'altro però c'è tanto problema proprio disagio perché la città è cresciuta tantissimo a livello economico i costi eccetera per tanti motivi però il resto della popolazione non è riuscita a starci dietro e io da ragazza sola mi sono trovata in tante situazioni comunque un po' pericolose cioè non mi sentivo mai c'evo paura comunque tornare la sera a casa a Hollywood poi la mia scuola era a Hollywood è brutta cioè non è che sembra assurdo da dire sembra assurdo però è pericolosa io mi sono trovata appunto in tante situazioni che quindi comunque io la se cioè se quando non anche a Milano a volte non mi sento tanto sicura quindi peccato perché appunto sono così dei bei posti però mentre a New York poi sono appunto mi sentivo anche molto lontano dalla mia famiglia sono 16 ore d'aereo comunque lei 9 ore diffuso quindi mi sentivo molto isolata molto sola e lei fa un po' questo ti isola perché tu se vivi lì io sono andata tante volte lei poi a fare sessioni ho lavorato tanto e lei però devi andare non so a fare una sessione stai un'ora e mezza in macchina andare un'ora e mezza a tornare vuoi andarti a bere un caffè con l'amica un'ora nel tra cioè non c'hai voglia di uscire almeno io poi insomma mi passavo anche la voglia mentre New York che sono andata perché volevo stare più vicino alla mia famiglia volevo magari quindi eri già andata per trasferirti lì per provare a vivere lì io in un giorno ho detto ok era finita la scuola cosa faccio resto mollo la casa così forse mio papà ha detto ma senti ma New York proprio non ti piace guarda che è una città bellissima siamo più vicini noi riusciamo magari venirti a trovare tu venire a Milano io in un deciso ho detto basta io sono così però ho detto basta vado a New York ho fatto le valigie ho provato lì avevamo conoscevo un amico di famiglia quindi mi ha ospitata per un periodo e poi in realtà io poi ho continuato degli studi e ho fatto musical davvero? sì però non è proprio no allora come è un'infarinatura di tutto pazzesca cioè tecnicamente a parte il ballo di tutti i tipi mi è piaciuto fare recitazione lì mi hanno fatto Shakespeare cioè una cosa una scuola seria avevo fatto un'audizione così ho detto c'è un'audizione per questa scuola tipo la scuola di fame sì 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 c'erano le varie canto, recitazione sì lirica tip tap cose che molto fuori dalla mia comfort zone e invece alla fine ho voluto ho provato a fare questi studi qua e non potrei mai fare un musical credo però ti ha dato qualcosa però ti dà una una consapevolezza del palco di quello che puoi fare anche solo quella tua cioè lì canti senza microfono no? il musical è praticamente solo voce cioè con la tua fisicità e appunto il ballo la recitazione e secondo me uno che vuol fare Beyoncé o Lady Gaga quel tipo di performance così fisico uno studio di musical theater te lo può infatti loro Lady Gaga mi sa che l'ha fatto musical theater è una cosa che sicuramente dà tanto ma lì nel frattempo tu scrivevi musica facevi cose sì tutto il tempo perché poi la mia curiosità è sempre stata cioè come fai poi a un certo punto vivendo lì quindi vivendo in una bolla sostanzialmente a entrare nel mercato italiano cioè a iniziare a essere conosciuta in Italia ma infatti io ho firmato prima lì ma tu usavi i social no no non lo so tu hai firmato prima lì quindi? con Republic come è andata questa cosa? beh allora io appunto durante questi anni tra l'altro di party cioè adesso io dico New York musical così in realtà party mi sono tanto goduta diciamo quegli anni lì di ragazza quindi andavi in giro conoscevi persone conosci un sacco di gente ti facevi anche tu conoscere per quello che facevi sì ma in realtà ho fatto New York se hai vent'anni oltre ventuno perché sono vent'anni locali c'è una nightlife c'è un poi i party conosci veramente tante persone io ho avuto gli anni rock diciamo che infatti sono tanto presenti nella mia musica e quindi mi ha tanto ispirato perché non è che appunto andavo a scuola facevo ah così cioè è stato gli anni in cui ho raccontato infatti un po' tutte queste mie canzoni mi ispirava tantissimo scrivevo sempre uscivo dalla scuola e stavo a scrivere in bagno andavo a scrivere c'era sempre raccontare tutto questo questo mondo strano in inglese in quel momento sì questo mondo strano che New York appunto è anche lei ha tutto questo lato molto lustrini molto luminoso molto flashà di tutte le ragazze bellissime però c'è anche questo lato oscuro che mi affascina che appunto poi il disco è tutto un po' questo il concept di questo lato oscuro sotto le luci no e quindi lì ho iniziato a scrivere e poi per caso ho fatto una facevo sessione con un sacco di producer americani e così a caso ho fatto una sessione con un tale Andy che era a 6pm che lui era venuto prima è andato prima è lei anche lui quando sono andata io via poi è tornato poi è arrivato a New York a fare delle sessioni ma queste sessioni erano organizzate dalla scuola no erano sessioni che tu facevi degli studi sì avevo avevo conosciuto avevo due manager lì americani che avevo conosciuto per caso non lo so loro sono tanto io facevo sentire le canzoni così chitarra e voce le cantavo e loro si erano tanto affezionati cioè gli piaceva tanto il mio progetto quindi loro conoscevano mi facevano fare delle sessioni e tra queste c'era Andy e ci siamo trovati Milano tutti e due cresciuti a un blocco di distanza a Milano senza mai vederci ah il destino proprio e guarda io ve l'ho fatto non so con producer americani mi hanno fatto cento sessioni quando lui mi ha fatto ha fatto il primo giro ho detto vabbè questo è il mio esattamente quello che voglio fare musicalmente e quello che ho scritto lui ha detto esattamente quello che sto cercando in un artista e vabbè ci si è sposati e poi c'è stato questo piccolo dettaglio esatto e poi abbiamo iniziato e lì abbiamo cominciato a fare un sacco di musica e la prima canzone che abbiamo tra l'altro che è uscita con Macete perché poi lui non aveva il visto quindi venivamo tanto in Italia lui conosceva i ragazzi di Macete Slyte il mio attuale manager mi ha detto no andiamo lì a registrare i Macete li conosco così te li presento e Slyte ha sentito con Manuelito e Raton ha sentito il prezzettino che stanno facendo e ha detto vabbè ma in Italia facciamo lo sciro noi no quindi abbiamo fatto il primo video quindi sono stati loro i primi a credere in te totalmente grandi e la prima è uscito il mio video il mio primo che si chiama get the fuck out of my pool cioè la prima canzone che è uscita lo stesso giorno mi ha scritto non so è diventato tipo un po' viral in USA mi ha chiamato Republic Records quel giorno lì volevo una punta mi ero a Milano tra l'altro ho preso un aereo sono andata e abbiamo firmato con Republic cosa hai provato quel momento io avevo tantissimo il mito della label cioè io credevo quella roba anni 90 che la label ti scopre e ti fa esplodere che oggi però non è così non è così le label credono in te ti supportano tantissimo però tu devi fare tanto devi fare tanto cioè devi proprio metterti in gioco anche sui social invece io appunto a scuola anni 90 la label adesso a posto foto con la firma questa firma non mi cambierà la vita e pensavo che fosse così però ho avuto proprio un'esperienza molto negativa io con Republic ma non tanto per il team perché loro sono sono la label di Drake di Ariana grande cioè di Post Malone quindi sono stata catapultata in un attimo in tutti nei VMAs cioè tutti ero con tutti in quel momento però il mio INR a cui ero che mi avevano assegnato cazzo non credevano non è che non credesse nel mio progetto ma non capiva quello che volessi fare non accetto poi era è il tipo che ha scoperto Salt and Peppa cioè proprio lui è un po' un dinosauro dell'induce è stato un grande arrivava da altri anni però non moderno cioè non giovane no? sì e quindi proprio si aspettava da me una cosa completamente diversa voleva una ragazza che fa pop e io volevo scrivere cose orribili cioè orribili anzi i primi pezzi comunque erano belli scuola anche adesso no no però ok però io volevo essere dark volevo essere onesta in quello invece lui mi continuava a dare canzoni di altri proprio tutte così che io le cantavo diciamo ma questa non è non sono io cioè devo scriverle io ho le mie canzoni quindi è stato orribile ci hanno stava finendo appunto il termine del contratto ma io in due anni mi ha fatto uscire una canzone è stato un un po' in gabbia sai che te lo giuro io ho veramente post traumatic stress adesso quando c'è se ci penso mi vengono i brividi la roba di non far uscire musica per me è tipo la gabbia delle gabbie in un mondo poi oggi invece in cui cacchio la figata è che tu puoi far uscire quello che vuoi invece lì ti senti imprigionata avevo il contratto quindi non potevo due anni con una canzone te lo giuro e poi scusami con slight emanuelito è successo dopo appena ti eri liberata sì perché a quel punto c'era le public era in inglese non potevi sì usciva in Italia però era complesso da gestire e quindi come è successo che il mio singolo che doveva uscire con le public che io ho detto aspetta un attimo siamo sicuri di voler rinnovare andiamo indie quindi loro mi hanno fatto un'offerta le public per stare con loro io ho detto di no no a quel punto lì cacchio non era un discorso guarda che sei emergente sei a zero con le public poi in America sganciano i soldi c'erano però abbiamo detto lì sempre tu andi insieme facevate e lì scusami da quando avete iniziato a lavorare a quando vi siete innamorati quanto è passato secondo me lui ha avuto un colpo di fulmine subito però in realtà no io ci ho messo un attimino perché poi ci tenevo tanto alla musica che stavamo facendo mi piaceva stare con lui e tutto però ho detto cazzo però se ci mettiamo insieme poi figurati quando dureremo quanto tre mesi nove anni nove anni sono passati otto anni cavolo e vi siete sposati quando l'anno scorso ok recentemente lì a New York a Brooklyn vabbè che figo dove vi siete sposati siamo stati su un rooftop sul fiume con tutta Manhattan dietro con tutte le lucine pochi eravamo beh no pochi in realtà una centinaia tutti i milanesi che sono arrivati su un carico di amici bellissimo che bello un po' da film quelli che vedevi quelle serie che vedevi hai superato anche secondo me penso che poi la canzone che è suonata quando sono arrivata all'altare con mio papà era Ultra Light Beam di Kanye ah cioè così di Kanye capito ma era tutto mega hip hop cioè è stato molto figo che top no aspetta il singolo che doveva uscire con Republic mio prima che io dicessi no era Chico che era in inglese Chico nasce in inglese era in inglese era il mio single tutto intero mio con delle strofe era molto trap e c'era questo rito che è un certo e Andy stava lavorando al disco di Guè e lui gliel'ha proposto a Guè lui gli ha detto ha visto che non lo fa uscire era Mr. Feene era Mr. Feene gli ha detto ma senti visto che adesso tanto se è infermi dovevano capire che cosa fare Chico io non la volevo neanche più sentire per tutto questo dramma di Republic gli fa mandiamo il rito a Cosme vediamo se gli piace tanto tanto cosa sappiamo e mi hanno dato a Guè subito ho detto facciamolo perché non glielo fai cantare in italiano io non avevo mai cantato in italiano cioè si cantevo Elisa Loredana però non avevo mai scritto in italiano non sapevo come cazzo si facesse poi anche le vocali sono tutte al contrario no invece mi sono messa lì ho scritto gli occhi Chico la roba lì che non era la traduzione di quello che avevi messo tu no però la suonorità era quella di Ice Chico lo dicevo di Ice Chico Sì quella frase Scarface era l'incipit e niente poi è andata come è andata quindi è stato no scusami è stato Guè è stato Guè il primo comunque a battezzarti sul mercato italiano l'italiano beh no con Salmo avevo fatto Don Medellin prima ma in inglese sì ok ritornarlo in inglese però già lì era spuntata fuori chi è questa Rose chi è cosa è che sta succedendo e tu lo facevi da New York questo Don Medellin l'avevo scritto nel periodo in cui ero in Italia con macete quando stavamo aspettando i visti comunque sì quindi allora il primo in assoluto Salmo con questa perché comunque era macete i ragazzi tanno sai Salmo com'è andata tra l'altro Salmo l'ho conosciuto io ero macete sentivo parlare di questo Salmo però vabbè ci siamo conosciuti a Ferragosto in un locale in Sardegna in Sardegna e io ero ubriaca Marcia e non so che cazzo mi sembra l'ho preso e gli ho detto magari dici io e te faremo una canzone che si chiama Made in a caso lui fa va bene mandamela e io gliel'ho mandata e l'abbiamo fatta ma ce l'avevi o l'hai dovuta creare dopo che avevamo l'idea del beat che era tutto sai quello con le chitarre molto un po' country che era l'idea del beat e io avevo questo ritornello che diceva qualcosa con Made in che però io non lo dico nel mio ritorno non c'è la parola Made in però lui ha detto si chiama Made in e lui mi ha detto va bene fammela sentire ben fatta e ci ha creduto ed è andato però in generale tutto il gruppo poi macete su queste cose avanti ha lanciato ha portato tanta roba nuova sono troppo bravi loro rivoluzionaria poi c'è quel senso molto di famiglia tra tutti i vari componenti ma Slight ma a parte Slight che vabbè è veramente è veramente di cuore ci tiene nei progetti ma guarda poi adesso con l'azino da sub cioè veramente prendere i progetti a cuore ma il team che lui ha formato intorno a sé sono quasi sono quasi tutte donne ma sono è una per te lo giuro una famiglia cioè tu quando stai con lui ti sembra di essere non so in vacanza puoi andarci in vacanza e ti senti al sicuro cosa che non provavi minimamente ne per niente quando stavi quando stavi in America chiaramente e quindi tu in realtà della scena italiana non conoscevi nessuno hai conosciuto hai fatto un percorso strano perché sei arrivata già insomma vabbè Guè e Guè come andate invece quando vi siete conosciuti Guè l'avevo conosciuto tempo prima secondo me insieme a Mar adesso non mi beh io uno dei miei primi concerti mi hanno sono di Club Dogo tra l'altro però sì era appunto con Andy quindi siamo visti un pochettino in giro ma con Guè c'è stato proprio un artisticamente siamo un match secondo me perché abbiamo tutti e due un immaginario molto cinematografico siamo attratti proprio da queste cose molto cinematografiche io amo il cinema lui anche e secondo me le nostre e poi anche le nostre voci secondo me stanno molto bene insieme quindi tutte le nostre canzoni cos'era mi hanno fatto i quattro cinque c'è anche Piango sulla Lambo sì cioè io secondo me completo un po' il suo lato pop ecco lui l'ha capita cioè lui su queste cose è sempre stato avanti tante persone ha capito prima di altri ma lui è un grande intenditore di musica e ne sa nel senso che ne ascolta tantissimo cioè quello è un aspetto fondamentale sempre continuare ad ascoltare e poi con gli altri come sono nate le altre collaborazioni? di tutti io appunto continuavo a scrivere martellare e guarda io sono molto fortunata perché anche i miei dischi questi due dischi io scrivo delle canzoni e non è mai successo che io le mandassi a qualcuno che mi dica no cioè veramente raro cioè se non proprio che c'era un brano in uscita sono molto tendenzialmente io sento tanto sento già la voce del fit sul brano oppure vabbè quelli tranne quando mi hanno chiamato loro ma i miei tipo io lo so ho mandato Elisa ah no no cazzata Elisa lì vabbè non è andata così lì robe trascendentali trascendentali sì dopo ok no ma tipo anche Mauri la mette cioè io gliel'ho mandata basta c'è tanta stima secondo me sentono che faccio qualcosa veramente di cuore veramente di che io penso che si senta la mia la mia grande passione e secondo me faccio anche dei pezzoni sì quella cosa quella cosa arriva poi quindi sì un'offerta che non potranno rifiutare e con Elisa cosa è che è successo? con Elisa invece Andy ha fatto qualcosa con lei per il suo disco quindi ci siamo conosciute io sono super fan da sempre e mia mamma che non c'è più era ultra fan di Elisa cioè proprio cresciuta con Elisa in casa sparata sempre e io non ho mai non ho mai scritto canto dopo che è mancata mia mamma non ho non riuscivo a scrivere canzoni su di lei cioè proprio per me era impossibile ogni volta era una tortura poi ho iniziato a fare terapia e dalle prime quando ho cominciato a aprirmi sulla storia della mamma poi ho sono andata a casa ho scritto questa canzone si chiama Monet perché mia mamma fotografava queste tutte le mattine fotografava queste albe perché si svegliava molto presto e le mandava sempre a me e le amiche e a un certo punto Andy sta lavorando con Elisa lei e ci siamo conosciute ha detto Andy ma fammi sentire un po' di roba di rosa sono curiosa vedere qua state lavorando e lui l'ha mandato Monet che era soltanto la prima strofa e il rito perché io appunto non l'avevo scritta però ho detto vabbè ho bisogno un attimo si si era ancora da ultimare e Elisa che ha scritto che non sapeva niente non sapeva niente io non l'avevo detto neanche della mamma niente dopo pochi sparisce dopo quattro ore manda un audio dove lei canta la seconda strofa di Monet dicendo guardate scusate mi sono permessa ma permettiti pure ma ho sentito una forza tipo veramente entrarmi nella mano e scrivermi sta frosa e l'ho scritta non so se va bene ma l'ho scritta dedicata a mia mamma no cioè è un infarto si ho pianto per tre giorni collegati proprio e poi si e poi l'abbiamo fatta pazzesco beh si è stata ma lei ne fa di roba anche guarda anche Gianna Sanremo secondo me c'è lo zampino perché mia mamma mi cantava sempre sei nell'anima e che il giorno Gianna si svegli e dica ciao voglio andare con il ruolo cioè quando mai succedono queste cose su che sta proprio una marionetta beh credo che possa essere molto orgogliosa credo in questo momento quindi lei ti ha sempre ti ha supportato lei è mancata prima che tu partissi no no ma mentre lì è mancata nel 2017 2017 io ero là ah eri già lì sì e lei cantava quindi arriva da lì un po' la tua passione la musica in casa era proprio non c'era una pausa mai un silenzio sempre solo musica e lei aveva questa grande passione per il canto e cantava anche inciso un disco pensa con degli amici molto bello e lei aveva la voce molto rocca un po' tipo chiaramente molto meno però una una Loredana una Gianna quindi lei cantava tanto quelle canzoni quindi adesso anche a Sanremo quando ho conosciuto Loredana Fiorella Gianna cioè in qualche modo cioè quelle canzoni sono l'unica per me la musica la magia della musica è questa che riesci veramente cioè io quando sento una canzone che mi canta mia mamma quando sento non so le notti di maggio di Fiorella cioè io mi sento come se ci fosse la mamma cioè una cosa per me la musica è magica e quindi quando ho bracciato Fiorella ho detto cazzo Loredana Gianna cioè mi sentivo che ci fosse un po' la mamma insieme nella stanza questo credo sia bellissimo ma allo stesso tempo anche molto forte da gestire anche come impatto poi cantare Se Nell'Anima con Gianna è stato e tu hai pensato anche a quello quando eri sul palco cioè c'era tuo papà e tuo fratello assume un significato ancora più forte chiaramente quando mi hanno fatto soprattutto in pro la prima volta che l'abbiamo fatta perché poi punta la voce di Gianna perché poi Gianna anche delle movenze fa delle cose un po' simili a come era mia mamma mia mamma era molto rock quindi Gianna è una molto fisica cioè mi prendeva me la cantava in pace un po' come faceva mia mamma e quindi io sentivo proprio in realtà mi sentivo un po' in più in pace forse sentivo ok allora allora non finisce tutto dai tu eri a New York già quando è successo sì ero a New York è stata una cosa molto veloce purtroppo nella mia famiglia ci sono tanti tante incidenze di tumori ed è per questo che sono in tata vegana in realtà perché ho letto un libro come non morire ho visto che mangiare l'alimentazione vegetale può ridurre tanto o scacciare un po' di malattie cazzo deve essere una roba insomma tostissima soprattutto per una ragazza che poi si trova dall'altra parte del mondo penso immaginavo cioè ti è anche preoccupata credo per tuo fratello per tuo papà che stavano di qua e loro invece hanno detto continua con la tua esperienza e noi ci pensiamo a noi e tu puoi non so chiaramente mio fratello era molto mio fratello era l'ultimo anno di liceo non aveva ancora fatto la maturità chiaramente io sempre sempre avrò un po' di sensi di colpa che io sono stata lontana in quegli anni lì anche da mio fratello di sicuro mio papà è uno in realtà si è sempre è molto dolce lui come persona molto pacata però non è uno che fa tanto vedere la sofferenza è sempre molto composto mio papà quello opposto di mia mamma che era invece certo e mio fratello anche lui quindi in realtà non mi hanno secondo me anche per non frenare il mio sogno non mi hanno mai non sono mai mostrati particolarmente fragili o bisognosi di me ecco anzi io sono una casinara poi arrivo faccio un casino però adesso credo che soprattutto perché poi Sanremo in qualche modo certifica credo che quello sia stato non è un traguardo ma per te credo sia il lancio di mille altre cose però è quel momento lì in cui dici vedi che tutti quei sacrifici quegli sforzi quelle robe lì stanno portando la cosa divertente ogni tanto magari faccio delle o faccio dei lavori con i brand oppure anche per delle date così magari mi danno dei cachet buoni io proprio faccio papì ma sai quanto mi danno per fare quello magari li faccio li faccio non ci credo ma poi scusami ho letto questa cosa e mi si sbaglio tuo papà ha un brand molto famoso di cose che non ci fanno bagnare durante la pioggia con lo scooter no infatti sfatiamo questa cosa aspetta no mio papà ha un'azienda che è Tucano però non Tucano Urbano perché io pensavo fosse Tucano perché l'ho letto no perché non so chiaramente adesso che ho avuto un po' di successo dicono eh ci credo al papà è un imprenditore invece non è nel senso sì è un imprenditore Tucano è una piccola azienda che fanno le sleeve per il computer le borse cioè è la parte computer la parte più tech lui aveva fondato negli anni 80 la Tucano anche urbano cioè quindi l'ha inventata lui la copertina vabbè quindi quella copertina sono staccati l'aveva fatta con un suo caro amico hanno litigato e sono subito e quindi lui ha portato la parte legata al tech sì al tech è un'azienda poverina cioè in Italia è grande sì sì però sì nel senso pensano che siamo miliardari ma non è vero subito le persone devono andare ecco quella roba ricollegata alla cosa che dici prima non so se sia per giustificare le proprie cose che magari uno o la propria frustrazione però tante volte devi subito andare a trovare la giustifica cioè qual è il motivo per cui anche io col papà milionario prima la banalizzazione delle cose invece cazzo anche da quello che hai raccontato adesso è stato tutto molto molto tosto poi è chiaro la possibilità di andare negli Stati Uniti comporta comunque dei sacrifici che hanno fatto dei sacrifici però io una cosa che mi dicono sempre è grazie studiare all'estero ma quanti medici avvocati studiano cioè vanno a Londra cioè un sacco io grazie a Dio se uno può io credo la cosa migliore che tu possa fare oggi ma perché ti apre la mente perché ti impari la lingua un regalo un regalo pazzesco ma non è venuto senza grandi sacrifici da parte di tutti però la gente pensa che io sia milionario mio papà sia milionario ma non è vero non è così io lo auguro beh no magari adesso la tua karma la facciamo adesso recuperi recuperi tutto vuoi una sleeve per il computer ma organizziamo il basement abbiamo bisogno di un sacco di cose legate alla tecnologia però adesso arriva anche il periodo invece quello di salire sul palco per far casino con le cose tue con il tuo tour eccetera non vedi l'ora per me suonare dal vivo è il motivo per cui uno fa tutto io ho fatto tanti festival da quest'estate scorsa tu bellissimo e tutto però poi ho fatto solo due date mie e basta io te lo giuro che non mi dimentico poi a Milano c'era tutta la mia famiglia tutti i miei amici quindi poi ai magazzini che io credo sia il posto dove più ho vomitato credo tutti i miei anni di liceo quindi è stato sentire hanno cantato mi piace come reference questo è il ranking hanno cantato dalla prima all'ultima frase tutti a squarciago cioè è una cosa che per un artista che scrivevo le canzoni me le scrivo veramente nella cameretta credo che sia la cosa che a un cantante fa più effetto quando tu quando vedi la gente che canta le due canzoni io potevo non cantare con i cani fare una nuova performance invece c'è stato anche il momento dove la prima volta ho cantato Monet dove io l'ho cantata anzi non l'ho cantata perché la prima volta che la cantavo dal vivo volevo farlo solo ho fatto a Milano e a Roma e basta nei festival non riesco a fare quella canzone perché è un contesto che mi viene da piante ti distrugge infatti ho pianto in tutte e due Milano e Roma tutta la canzone è iniziata così e loro me l'hanno cantata tutta loro poi un pochino provavo a cantare ma c'è stato proprio un abbraccio un abbraccio pazzesco guarda non me lo dimenticherò mai infatti non vedo ora di fare i prossimi Monet magari non la facciamo solo in determinate occasioni non che in questo disco nuovo disco non ci sia c'è che tante canzoni mi fanno venire da piangere quando le canto tantissime anche in questo disco c'è trasparente io c'è un passo che si chiama Milano almeno tu ci sono queste due canzoni che quando le canto anche quando le registro canto cioè piango piango sempre quando è l'ultima volta che hai pianto ti ricordo no stamattina no c'è proprio io piango tutti i giorni ma vai sono cancro non ne capisco niente di segni però andrò a informarmi sei cancro probabilmente piangi potrebbe essere potrebbe esserci questa caratteristica e tu non piangi? ma sì mi capita mi capita ultimamente meno nel senso che cerco sempre un po' di trattenermi però da quando sono nate le mie figlie la mia sensibilità è nettamente aumentata e adesso mi commuovo per delle cose per cui probabilmente prima non non mi commuovevo quella roba lì è un altro step è uno step successivo no no assolutamente è sicuramente molto molto bello ma live in figli che hai visto tu magari in America dove c'è un livello io sempre cioè se ho io vado anche a vedere chi non conosco cioè tipo se sento musica uscire da un locale entro ma il bello dell'America è questo che la gente se tu hai un progetto veramente piccolo e canti in fiammingo e fai con le nacchere la gente ti viene cioè trovi un tuo pubblico c'è gente curiosa che non va a vedere solo le cose che spaccano o per definizione ma forse il live più ho visto Drake ho visto Kanye ho visto Jay-Z Jay-Z veramente figo Kanye l'hai visto proprio cantare quindi non solo listening tra l'altro ho spaccato ho visto i Coldplay ho visto Post Malone li ho visti quasi tutti è così che spendo i miei soldi questa cosa forse l'ho già detta ma con Fra quando siamo andati a Salt Lake City che ti raccontavo c'era stato il live di Post Malone e mi ha letteralmente scioccato in positivo è veramente fortissimissimo molto di più da sentirlo in un disco ma tu quando eri in quell'etichetta lì conoscevi un po' hai avuto degli incontri sì sì però pensa che un pezzo devo fare con Nicki Minaj ah però pensa pazzesco però poi sai come sono quelle robe però ma tu mi hai ripensato adesso di provare poi dopo a ritornare sul mercato globale io ho 3-400 canzoni in inglese 3-400 sì scrivo adesso 3-400 adesso ne ho 150 in italiano se ho un secondo devo scrivere in inglese ho avuto tanto tempo e sicuramente cioè io non però cos'è difficile secondo te di quel mercato lì perché adesso non è difficile forse non lo so cioè tipo oggi la figata di tante cose lo vedo in tanti settori o anche il mio eccetera è che hai il mondo davanti cioè non puoi pensare di fare una cosa e non farla solo per un pubblico italiano ma pensare a un mondo intero i Mineskin sono un esempio clamoroso di quello che è successo però ho dovuto cantare in inglese sì ma infatti io sono super vorrei tanto cantare in inglese a me dispiace che l'italia però l'italia se fai qualcosa in inglese tendenzialmente se è italiano non lo apprezza tanto ti allontana un po' però io quello che mi piacerebbe fare è continuare a fare musica in italiano e farla anche in inglese cioè vorrei fare entrambe le cose perché non posso precludermi che magari che ne so che in Giappone impazziscono per una mia canzone cosa faccio non lo faccio e il tuo rapporto con i social da questo punto di vista cos'è com'è cioè quando scrivi una canzone ci sono canzoni che ti sono andati viral su tiktok sì ma Michelle Pfeiffer si Michelle Pfeiffer in particolare ma è la nuova devo bisogna adattarsi è la nuova io guarda ho sempre io sono a scuola Max Martin io quando scrivo canzoni sicuramente tengo tanto conto alla frase io la penso come la frase della maglietta c'è sempre una frase che uno se la può scrivere su una maglietta che è un po' il claim la citazione il claim svedese di Max Martin cioè tutti i pezzi di Katy Perry che invece adesso è la frase di tiktok probabilmente il copy di instagram quindi chiaramente se ti parte un pezzo su tiktok tanta roba quindi però non l'ho mai scritto proprio dicendo devo fare un pezzo per tiktok cioè un pezzo con un claim forte sempre però speriamo che vada su tiktok quella roba di funzionamento ma tu usi tu frequenti i social allora tiktok lo guardo tantissimo perché mi escono delle cose troppo interessanti cioè io non riesco vado a dormire prima di dormire mezz'oretta di scrolling che il mio tiktok è stranissimo è sempre così guardo una roba prima di andare a letto due ore dopo così con gli occhi sbarrati felice a me su tiktok o ho cose tipo le chiamate della polizia dove perché poi la criminologia è un'altra cosa mi piace tanto sì è vero quindi cose polizie oppure robe paranormali così oppure gattini o animaletti che fanno cose esilaracadono quindi ho tutti questi che sono io sono così io ho questo lato super cute così poi c'ho questo lato invece oscuro e tiktok è proprio il mio perché è criminologia? eh non lo so ho sempre avuto come non un piano B perché la musica non appunto è sempre stata l'unica il piano B era commettere dei crimini no è sventare i serial kill no mi ha sempre tanto affascinato la psicologia che ci sta dietro cioè tipo proprio la parte un po' più conturbante del serial kill che col mondo dei podcast in particolare ho scoperto affascinare un sacco di persone perché nel mondo i podcast sul crimine sono tra i più ascoltati c'è qualche storia che ti ha affascinato guarda c'è sì è tipo tutte tutte le storie con la sindrome tipo Munchausen che sono quelle mamme che tengono continuano a over medicare i bambini per tenerli malati poi in realtà stanno benissimo però per tenerseli cioè Munchausen è assurdo ci sono delle serie bellissime ma c'è c'è una serie true crime che si chiama The Jinx guarda che te la super consiglio che è questo magnate non so del real estate a New York credo che lui ha commesso ovviamente ci sono delle sparizioni vicino a lui dove tra l'altro lui lo beccano a un certo punto che ha ammazzato uno non so c'è proprio in tribunale c'è proprio le riprese vere però ha un avvocato è così potente lui ed è così ricco è un avvocato una schiera di avvocati così potenti che riescono sempre a scagionarlo e tutto è l'intervista a lui che è questo ormai vecchietto che racconta però eh sì gli ho tagliato la testa a lui lo racconta sì sì lui racconta queste cose dice però io l'ho fatto per difendermi cazzo è che taglia la testa e le butta nel fiume non lo so ti devo dire però durante la serie praticamente il regista è così ossessionato da questa storia che fa delle sue personali indagini insieme alla polizia senza dire alla polizia e scopre una cosa che la polizia non ha scoperto e decide di sventarlo in diretta ed è una cosa che tutto proprio c'è il cardiopalma devi andare a parlarne con Ax sai che G-Ax ha questo podcast sul diciamo sulla la criminologia diciamo che si chiama non aprite quella podcast che ha tutto un mondo che racconta un sacco di di tematiche legate al crimine ma anche le più strampalate questa è particolarmente seria in realtà Rosi io ti ringrazio un casino per questa chiacchierata per la botta di energia che hai portato qui sono riuscito anche a non farti neanche una domanda sull'NBA che di solito quando uno fa mezzo giro in America io gli dico ma sei mai quindi questa non non te l'ho fatta però insomma hai delle vibes fighissime grazie grazie di cuore e credo che spaccherai sempre di più tocca a ferro ma insomma ti riaspetto poi per altre mille chiacchierate ci vediamo a New York e la facciamo no organizziamo a New York mi porti dei posti che conosci tu perché quando vai con qualcuno perché voglio vedere dove ti sei sposata cioè deve essere una roba tra l'altro andiamo di averci un cocktail ci si può andare tranquillamente deve essere una cosa una cosa fighissima grazie davvero Ros Villain è passata dal basement e ci vediamo a live cacchio ci vediamo a live grazie a tutti